Oggi è una gara molto importante, quali sono i tuoi obiettivi? Diciamo che gli obiettivi sono fare il meglio possibile, è una corsa delissima con un partire non da poco, ci vuole anche un pizzico di fortuna quindi oggi andiamo a cercare un po' la prestazione e poi se arriva il risultato è ancora meglio, sicuramente partiamo per far bene e cercare di fare il massimo. Prossimi impegni? Prossimi impegni Tireno-Triatico e poi Milano-Triatico e un po' di riposo. Tireno c'è qualche tappa che ti ispira? Ora intanto pensiamo ad oggi, per la Tireno mancano ancora qualche giorno.